Il progetto del giardino deve includere obbligatoriamente la lista delle piante che andremo ad includere al suo interno. Le piante vengono scelte in base alla loro funzione, in base all'aspetto, dal momento che sono l'elemento che renderanno il giardino vivo ed emozionante. Non basta però illustrarne il portamento, il periodo di fioritura, le dimensioni che raggiungeranno a maturità. È compito del progettista del verde andare a scegliere personalmente gli elementi vegetali che poi riceverà in cantiere e che dovrà mettere a dimora. È per questo che oggi ci troviamo in Toscana, in uno dei migliori vivai d'Italia, per scegliere le piante che andremo ad inserire nel giardino che stiamo realizzando. La scelta delle piante avviene percorrendo il vivaio con la lista alla mano e andando a scegliere personalmente gli elementi vegetali che poi riceveremo in cantiere. Ovviamente daremo la priorità alle alberature e agli arbusti più importanti, mentre per altre piante, come ad esempio piante tappezzanti, non è così fondamentale andare a scegliere la pianta specifica. Nella scelta delle piante andremo ovviamente a guardare e a valutare il loro aspetto. Sceglieremo quindi le piante che ci sembrano più adatte al progetto che stiamo realizzando. Dovremo però anche porre attenzione all'apparato radicale, eviteremo cioè piante rinvasate da poco e allo stesso tempo piante che sono restate nello stesso vaso per troppo tempo. In entrambi i casi infatti potremo avere difficoltà di attecchimento una volta che le piante fossero messe in pieno campo. Per quanto riguarda le dimensioni andremo a scegliere piante di medie dimensioni. Eviteremo quindi piante troppo piccole che danno un effetto misero e che sono molto delicate. Eviteremo però anche elementi vegetali troppo grandi. Quest'ultima infatti, oltre ad avere un costo elevato, necessitano di molte cure per garantirne l'attecchimento. Questa scelta quindi verrà riservata unicamente ad alcuni elementi del giardino ma non è una linea guida per tutte le piante che andremo poi ad impiantare. Recarsi in un luogo come questo, che è uno scrigno di bellezza, è motivo di gioia per chiunque ame le piante e anche per il progettista del verde. Per il professionista si tratta però di un compito imprescindibile. Non basta quindi andare a concepire il giardino scegliendo la tipologia di piante da porre a dimora ma bisogna scegliere personalmente le piante che poi effettivamente andremo ad utilizzare. Soltanto in questa maniera potremo garantire alla committenza il risultato desiderato. A questo punto non resta quindi che consegnare la lista definitiva al vivaista e poi attendere in cantiere le nostre piante dove finalmente andremo a completare il lavoro sul nostro giardino.